La Oasi Verde SRL con sede a Cava dei Tirreni svolge la sua attività nel settore della vendita dei mangimi, prodotti e macchine per l'agricoltura, PET, arredo giardino, irrigazione, fai da te, pellette e stufe e da quest'anno come novità anche legumi, cereali e servizio chiavi. Prosegue il percorso di trasformazione della Metellia Servizi, la società in house del comune di Cava dei Tirreni, da multiservizi ad holding mista. Negli ultimi anni infatti l'azienda ha subito profonde modifiche rispetto all'assetto iniziale. Al core business originario, rappresentato dalla sosta, si sono aggiunti altri servizi affidati dall'ente. La Metellia in questi ultimi mesi inoltre ha gettato le basi per una vera e propria riorganizzazione aziendale, con l'obiettivo di perseguire la riduzione dei costi per l'ente e di ottenere un recupero di efficienza ed editività dei settori aziendali, con particolare riferimento a quella dei servizi cimiteriali, dove è prevista, in una prima fase, lo scorporo di tali servizi con la creazione di una società mista pubblico-privata. Nelle prossime settimane, dopo il via libera alla decisione di costituire la new cometelle a servizi cimiteriale SRL, sarà avviata la procedura finalizzata all'espletamento della gara a doppio oggetto per la trasformazione della compagine mista che dovrà gestire i servizi cimiteriali, tra cui la gestione del tempio crematorio. Inoltre, in occasione dell'ultima seduta di Consiglio Comunale, è stata ratificata anche la nuova Convenzione per il servizio di igiene urbana, poiché l'ultima risaliva a lontano 1996, quando il Comune di Cava dei Tirreni affidò la gestione del servizio alla seta. La nostra partecipata deve diventare, è diventata e sta diventando e il nostro auspicio diventerà sempre di più, una società sempre meglio organizzata, con una struttura manageriale di supporto alla ottima direzione del Presidente Muoio. Abbiamo inserito il Direttore Generale, l'Avvocato Maurizio Vagliano. La società sta inserendo una nuova figura tecnica per poter avere un ulteriore elemento di supporto alle tante attività che vengono svolte, è cresciuto nel corso degli anni il numero di dipendenti e in seguito ai pensionamenti che si stanno verificando anche all'interno della partecipata, che crescendo, crescendo, invecchia anche dal punto di vista del personale, ovviamente, che passano gli anni e quindi si va in pensione, anche una nuova selezione per il personale che dovrebbe partire per il prossimo anno. Il punto in Consiglio Comunale è stata approvata la nuova convenzione che disciplina i rapporti tra il socio unico che è il Comune di Cava dei Tirreni e la Metellia, per definire in maniera ancora più puntuale il quadro dei servizi che la società deve offrire alla nostra città. Metellia si occupa ovviamente come missione fondamentale di rifiuti e di sosta, sono queste le sue principali attività, però è cresciuto nel corso del tempo e vogliamo fare investimenti importanti per quanto riguarda la gestione, che è già attualmente in corso, del Tempio Chiamatorio. Con la creazione di una società mista pubblico-privato, che abbiamo messo nella nostra programmazione, nello sviluppo della società, noi vogliamo fare un investimento per una doppia linea di Tempio Chiamatorio, professionalizzare ulteriormente il servizio e affidare, diciamo così, a questa gestione anche un quadro più completo per quanto riguarda il nostro civico cimitero, mantenendo però in capo all'amministrazione comunale sempre il front office, il rapporto con il cittadino e così via.